Numerose le criticità apparse nella fase di rodaggio dell'espansione della raccolta differenzata alle varie zone della città. È stato stilato un elenco dagli uffici comunali che si occupa della gestione della raccolta rifiuti che sarà presentato giovedì prossimo alle 10 ai vertici dell'azienda che hanno vinto l'appalto, ovvero la Dasti. Tra i punti la presenza dei mastelli di raccolta sulla carreggiata stradale, sotto i marciapiedi, anche fuori dagli orari consentiti. I condomini e gli esercizi commerciali, secondo l'ordinanza, avrebbero dovuto trovare degli spazi appositi senza recano alcun documento. Saranno i vigili urbani ad effettuare i controlli e le eventuali multe. Non sono state ripulite ancora le caditoie stradali. Continuano ad essere lunghe le file al centro di raccolta Carmarella. C'è inoltre un problema con il numero verde che risulta libero e nessuno risponde, ma a grado l'operatore si è impegnato in un'altra conversazione e risulta come se non rispondesse nessuno. Il servizio va migliorato, questo è l'obiettivo dell'amministrazione.